Non c'ho voce, parliamo della nazionale, a me già non mi vale parlare della nazionale, poi non c'ho manco voce, però di ce ne devi parlare, parlamo, sicuramente è una nazionale diversa rispetto a quella che ha battuto con lo stesso punteggio Malta, e grazie al cazzo, ci voleva pure poco rispetto a Malta a fare una prestazione più decente, ha creato, ha sprecato molto, è andato in vantaggio sub, De Rossi, protagonista, secondo me più in negativo, perché comunque, a parte il rigore, stava per far fallo 1-1, lanciando un controppiato avversario, si è fatto espellere, era un gesto di reazione che, voglio dire, ormai all'età sua dovrebbe avere un attimino un po' più metabolizzato certi comportamenti, però ogni tanto, ieri parte Armato, Conte fa dei cambi, fa giocare anche il Sharawi e comunque fa un'ottima prestazione, perché comunque il Sharawi sa la sinistra, quando sta in forma, se li beve tutti, Verratti sicuramente mostra di essere cresciuto, ma tuttavia ditemi voi la vostra, perché io, come sapete, nazionale, non la guardo, a meno che non so, mondiali o europei, queste partitelle così, insomma, che mi vengono a spezzettare il campionato, mi rompo solo i coglioni, ditemi la vostra.